Diego Fuser è per Rambaudi, ma sul pallone c'è Beppe Signori a centro area, vediamo Casiraghi pronto allo stacco di testa, anche Cravero e il gol di Cravero! Gol di Cravero al 27esimo minuto! Lazio 1-4-0! Pavalli, 27 minuti e mezzo di gioco, Lazio in vantaggio per 1-0. Venturin recupera Oran, attenzione, Ami esce, Marcheggiani tocca la palla con le mani, poi c'è il gol! Il pubblico esige, pretende 11 leoni, rimessa in gioco di Pavalli per Divaio, il tiro da lontano, il gran gol! Stupendo gol di Divaio! Grazie a tutti!